Gli istituti professionali Montini e Cuoco di Campobasso manterranno la propria identità e unitarietà. Non passa in sede di consiglio regionale previsto accorpamento all'industriale Marconi di Piazza San Francesco, come invece era stato previsto dal piano di dimensionamento scolastico, al fine di istituire i due centri per l'istruzione degli adulti nei due capoluoghi di provincia. Con le dovute modifiche apportate nell'aula di Palazzo Moffa, il Cuoco e il Montini potranno avviare quel polo scolastico professionale in grado di garantire agli studenti un'offerta formativa, diversificata ed evitare il colpo di spugna. Un polo scolastico che per la sua tipologia potrà essere in grado di assolvere presto all'alternanza lavoro-istruzione e stage in aziende. Dagli istituti professionali fuoriescono tecnici, dagli industriali periti. Questa differenza nel percorso didattico era stata messa in discussione dal piano di dimensionamento 2014-2015. Le modifiche apportate in Consiglio regionale hanno trovato d'accordo docenti e personale tecnico. Mantenendo ognuna la propria identità, in molti addetti ai lavori, spingono per l'implementazione delle scuole professionali della regione, come spesso già avviene nelle realtà del centro-nord del paese. Grazie a tutti.